benvenuti a questa nuova puntata questo nuovo episodio di geosite natura oggi sono a vitozza la città perduta il sito rupestre nel comune di sorano in provincia di grossetto quindi nella toscana del sud sono proprio all'interno di una cavità escavata nel tufo vitozza è formata da più di un centinaio di grotte che venivano abitate anche tutto sommato in tempi recenti sono grotte che vengono escavate nel tufo ora non possiamo vedere benissimo il tufo perché l'umidità perché i microorganismi hanno ricoperto un po di verde le pareti della grotta e anche ovviamente le parti un pochino più scure perché perché qui venivano sicuramente accesi anche dei fuochi per potersi riscaldare in questa grotta nel particolare abbiamo anche ad esempio una nicchia come possiamo vedere qua sulla mia destra dove è rappresentata anche una croce quindi erano proprio dei luoghi vissuti dalle popolazioni di queste zone lungo il sentiero in cui mi trovo si possono scorgere tantissimi massi erratici di tufo che probabilmente si è staccato dalle pendici come ad esempio questo che possiamo toccare con mano qui si possono vedere chiaramente anche i piccoli clasti che sono contenuti all'interno del tufo il tufo cos'è il tufo ovviamente è una roccia ignea una roccia che deriva da eruzioni vulcaniche sono delle scenerie che poi si sono depositate si sono solidificate nel corso del tempo qui si può notare proprio chiaramente come dicevo poc'anzi anche dei clasti che sono stati trasportati con questo flusso e poi sono stati deposizionati e si sono solidificati tra un bel blocco che si sarà sicuramente staccato da delle pendici più in alto ricordo che questa zona la città del tufo con sorano pitigliano il parco archeologico è contornata da dei banconi enormi di questa roccia su cui poi sono state costruite le principali strutture abitative qua a Vitozza si possono osservare anche i colombari colombari sono delle piccole nicchie incavate in questo tufo che si dice servissero per l'allevamento di questi volatili poi chissà potevano anche essere utilizzate per altri scopi un po' in tutto il territorio la vegetazione è molto rigogliosa nonostante questa roccia vulcanica alla base si trovano molte latifoglie quindi noi siamo immagini già possiamo vedere anche proprio lo splendore del verde è un'area in cui si possono trovare oltre che le grotte anche le famosissime vie cave sono delle spaccature all'interno del tufo che servivano per collegare più brevemente due punti queste vie cave non sono delle spaccature tettoniche non sono delle spaccature naturali ma sono escavazioni provocate dall'uomo appunto proprio per creare una viabilità che potesse agevolare il trasporto anche ad esempio delle merci ma questo lo potremo vedere in un altro episodio di geosite natura il tufo come possiamo vedere si sgretola facilmente esposto agli agenti atmosferici quindi vi invito a venire a visitare Vitozza perché come geosito è bellissimo un po tutta la città del tufo qua in provincia di il tuo sito nell'area toscana sud